Una sessantina di piccoli quadri di artisti piemontesi e non sono esposti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino, nella mostra Segni 20x20 Reload. Curata dal Centro Cultura Contemporanea di Torino, che circa un anno fa ha ricevuto in dono oltre mille opere pittoriche e tutto l'archivio cartaceo e digitale di quella che fu la rassegna Segni 20x20 Open 2005, la mostra resta aperta fino al 21 luglio. La filosofia proprio di base di questa rassegna era quella di democraticamente mettere insieme grandi artisti e magari professori dell'Accademia Albertina o altri di altre accademie e i loro allievi oppure grandi nomi come Francesco Casorati, piuttosto che altri, Carena, con invece i loro allievi o giovanissimi artisti o anche sedicenti artisti. Avvicinare quindi l'arte, che è sempre stata considerata come un evento anche elittario, al grande pubblico cosa che poi è diventata anche una delle indicazioni della comunità europea dove c'è l'arte solitamente non c'è la violenza. Proveio Grazie a tutti.